Vi parlerò ora di come applicare l'effetto eco in una traccia audio in Audacity. L'eco è la ripetizione di un suono con ritardo regolare che si verifica con volume diminuito. È un ritardo che riproduce con molta cura il suono. È possibile modificare il tempo del ritardo e il fattore di decadimento come vedremo, ma la prima cosa che devo fare è fare una piccola registrazione per poter applicare l'effetto. Quindi vado in registra, audio. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fu ora cose create se non etterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Ecco, ho fatto la mia registrazione, ora per applicare l'effetto vado a duplicare il file, quindi seleziono il file, questo file audio che posso anche risentire, risentiamo. Per me si va nella città dolente. Ecco, vado, quindi seleziono, vado in modifica e faccio duplica, quindi ho la traccia duplicata. La prima la muto, la seconda solo, così è selezionata la seconda traccia, lavorerò sulla seconda traccia duplicata. Vado in effetti e cerco, ecco, vedete che mia propone un ritardo temporale in secondi di 1 è un fattore di decadimento di 0,5. Posso lasciare questi parametri, andare in anteprima e... Per me si va nella città dolente, per me si va... Ecco, se non mi andasse bene questo ecco, posso andare a cambiare il ritardo, ad esempio temporale in secondi, portandolo a 3. Vediamo l'anteprima, se mi piace di più. Per me si va nella città dolente, per me si va... Ecco, mi piace di più e quindi posso dare l'ok e ho il mio file ora, numero 2, duplicato, a cui ho applicato l'eco.